One, two, three, four. LennyCast. Pergegivания, mysli, встречi, radio. Hari Hari Bowl, ben ritrovati o benvenuti all'ascolto di questo primo episodio della quarta stagione di LennyCast. In questo episodio, che sarà condotto per intero dal nostro Pietro, ci porterà a conoscenza di cosa sta accadendo nella città in cui vive e che di conseguenza tocca, sotto molti punti di vista, la vita di tutti noi, specialmente se si parla di lotta al bullismo e alle discriminazioni. A noi di LennyCast piace sempre aprire una finestra informativa sulla realtà che ci circonda, ma non voglio portare via tempo prezioso al nostro librivolo che per oggi veste i panni del conduttore. Vi ricordo che potete seguire la nostra pagina Facebook, commentare questo come tutti gli altri episodi e dialogare con tutto il cast del programma. Avete a disposizione anche la e-mail, LennyCastMail.com, per eventuali domande o segnalazioni di temi che vorreste proporre. Inoltre, vi ricordo che siamo presenti sulle maggiori piattaforme di streaming, quali Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast, Podvai e Audible, oppure attraverso gli smart speakers Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto! Io sono Pietro, molti di voi mi avranno riconosciuto sicuramente, e sono il conduttore per questa puntata di LennyCast, quanto mi sono sentito coinvolto personalmente in quello che sta succedendo del malasma che ha creato il sindaco, per una questione obiettivamente futile, nel senso che si è scese anche direttamente in piazza sabato 22 ottobre, in quanto si è sentito il bisogno la cittadinanza, più che la politica, la politica proprio niente, ma la cittadinanza ha avuto bisogno di scendere in piazza per manifestare le ultime decisioni del sindaco. Cosa è successo? È successo praticamente che il sindaco, facciamo pure il nome, il sindaco Fracassi, ha sospeso dei corsi che venivano effettuate da alcune associazioni, tra cui Caminaut, Arcigè e di Pavia, dei corsi che si svolgevano nelle scuole contro il bullismo. Cosa significa? Che c'erano delle varie realtà locali, frattavano nelle scuole, per cercare di far comprendere cosa fosse il bullismo, come emarginarlo e come rattarlo in questa situazione. Erano tantissimi cittadini che sono scesi protestando dopo la decisione di eliminare del progetto Fare Bene per Stare Bene, questo è il nome del progetto che i ragazzi proponevano nelle scuole, la parte gestita da Caminaut a via. Sono state oltre 300 o 350 le persone in piazza della Vittoria a chiedere al sindaco di ritirare la sospensione del patrocinio sui corsi antidiscriminazioni nelle scuole che coinvolgono appunto anche l'Archigè. Ma ripeto, non solo l'Archigè, ma ci sono varie realtà che aderivano a questo progetto. La manifestazione appunto è stata indetta da sei associazioni per lo sportello antidiscriminazione del comune che partecipano al progetto contro il bullismo scolastico, quindi la già citata Caminaut, Anthras, Yuldm, Liberamente, Nedar e Comitato Asti Senegal. All'improvviso, dopo due anni in cui questi ragazzi portavano il messaggio nelle scuole, il sindaco, plof, ha cambiato idea, vuole sospenderli. Al centro della vicenda c'è il progetto Far Bene per Stare Bene contro il bullismo scolastico che aveva il patrocinio del comune e prevedeva tre parti, una contro la discriminazione nei confronti dei disabili, una nel confronto degli omosessuali e una nei confronti degli stranieri. Cosa è successo? È successo che i Leghe Fratelli d'Italia sono in sorte e hanno chiesto al sindaco Far Casti di comunicare che il progetto si sarebbe potuto realizzare solo escludendo le elezioni da tenere nelle scuole a cura dei volontari di Archigè e Caminaut. Di fronte a questa alternativa anche le altre secezioni, già nominate prima, hanno deciso per solidarietà di rinunciare al progetto e al patrocinio gratuito del comune. Io ho fatto una sintesi in quanto vorrei che fossero le parole direttamente del presidente dell'associazione Archigè e Caminaut a piegare quello che è successo. Benvenuto Davide! Grazie, grazie Pietro, ciao a tutte e a tutti e a Todes come ci piace dire. Cosa sono i corsi che stavate facendo Far Bene per Star Bene e da quanto tempo avevate iniziato a proporle nelle scuole? Allora, questi corsi esistono da moltissimo tempo. Le prime lezioni, insieme alle altre realtà, che si occupano di combattere l'abilismo, il razzismo, la violenza di genere, le abbiamo fatti già dal 2010. Poi, dal 2014, sono stati formalizzati nel progetto Far Bene per Star Bene, che è promosso dalle pari opportunità del comune di Pavia ed è sempre stato promosso ogni anno alle scuole, dal 2014 fino ad ora. Sono progetti didattici contro il bullismo. Nelle scuole si va a raccontare la condizione delle persone con disabilità, delle persone che vengono da altri paesi, delle persone LGBT+. Si cerca di smontare gli stereotipi che sono poi alla base della condotta del bullo, del fenomeno dell'azione di bullismo, che va a recuperare questi stereotipi per utilizzarli contro le persone. Quindi, di fatto, sono progetti didattici che intendono promuovere l'inclusione di tutte e di tutti nelle scuole. Sappiamo, peraltro, che il bullismo è un fenomeno enorme, dilagante nelle scuole. Si parla di oltre il 20% della popolazione scolastica che è coinvolta, quanto vittima di bullismo, di bersaglio di bullismo, e il 18% coinvolta nell'azione di bullismo perpetrata su altri. Tu, Davide, mi stai dicendo che questi corsi includono varie tipologie di bullismo. Non solo il bullismo a livello sessuale, ma anche contro quelli di razza, contro quelli di persone con disabilità. Certo, va a contrastare il bullismo in quanto tale e poi ad analizzare gli specifici fenomeni di bullismo legati a razzismo, abilismo, omolesco-transformia e fascismo. Certo, questo voi insegnate a non fare i bulli, benché non siano inglobati, diciamo così, in una determinata categoria, ma anche come supporto alle persone che hanno questo tipo di abilità, ovvero che sono omosessuali, che sono purtroppo portatori di handicap, eccetera, a riconoscere se stessi, a apprezzarsi, a avere una spalla su cui affrontare, non da soli, come è successo a quelli della mia, io sono un po' più anziano di te e penso anche della tua generazione, un supporto presente, fattibile, umano. Sì, il supporto poi è la conoscenza, nel senso che vengono spiegate le cose vere, quindi si cerca di far guardare i fenomeni attraverso l'occhio della realtà e quindi anche attraverso l'esperienza delle persone che questa realtà la vivono. Senti, ma questi corsi come venivano accolti dagli insegnanti stessi o dai presidi della scuola? Laddove li abbiamo fatti bene, anche perché non sono corsi obbligatori, sono i docenti stessi delle scuole, i dirigenti scolastici che decidono o meno, se lo vogliono, di aderire al progetto, quindi non è che era qualcosa di obbligatorio, noi siamo andati nelle scuole che hanno richiesto il nostro intervento, adesso peraltro lo richiedono su specifiche necessità, se si verifica ad esempio un caso, veniamo chiamati e si cerca di lavorare con la classe per dare gli strumenti a tutta la classe per superare la problematica emersa, quindi sono sempre stati accolti benissimo, sia nelle scuole primarie, sia nelle scuole secondarie, attravia di tutto il territorio. Questo fino a qualche settimana fa, perché? Cos'è successo poi? Beh, è successo che talmente sono stati i parlamentari eletti all'elezione del 25 settembre nei partiti della maggioranza a creare il caso, hanno detto che questi corsi nelle scuole elementari non si devono fare perché sono pericolosi. Ma riferiti al caso dell'omosessualità o riferiti in ogni branchia che comprendeva questo vostro progetto? Tutto lo riguardante il tema LGBT+. Quindi va bene tutto a parte questo tema, gli altri possono venire e voi rimanete fuori dai cancelli. Esatto, è andata così. Poi da lì la maggioranza in consiglio comunale e di conseguenza in giunta si è allineata, il sindaco ha sospeso di conseguenza questi moduli LGBT. Ma quando ha deciso di prendere questa decisione, tutte le associazioni che fanno parte del progetto gli hanno detto che sospendi questi moduli, stai chiudendo tutto, perché noi non siamo disponibili ad andare nelle scuole con il logo di un'istituzione che discrimina una parte. Per cui di fatto siamo in una situazione di stallo. Questo, tra virgolette, chiamiamolo voltafaccia, che effettivamente è un voltafaccia, del sindaco secondo te è dovuto al cambiamento politico in atto o perché effettivamente lui pensa se stesso al futuro? Sicuramente c'entra l'esito elettorale perché questi corsi, la giunta, che oggi si sconosce, li ha promossi nelle scuole nei due anni precedenti. Quindi lo sapevano che queste attività venivano svolte. Perché hanno cambiato idea? Perché all'esito delle elezioni sono cambiati i equilibri politici. Il partello d'Italia è molto più forte nella coalizione rispetto a prima e quindi vuole far valere la sua presenza attaccando i corsi contro il bullismo, evidentemente. Quindi, secondo te, cosa spaventa tanto di questo vostro progetto? Soprattutto nell'argomento LGBT. Hanno paura che voi insegnate o insegnate a diventare gay agli altri, agli alunni? Questo è quello che dicono, ma che naturalmente non c'entra niente con la realtà. Ma quello di cui sono certo è che è una polemica strumentale. Per loro dei corsi non interessa nulla, non hanno nemmeno letto i progetti perché infatti non li conoscono. È una polemica politica basata da un lato su il risultativo di cambiare gli equilibri politici interni alla maggioranza. Dall'altro, certo, di base probabilmente c'è omolespotransfobia, che queste persone hanno paura di noi in maniera immotivata e incomprensibile. Qui di base c'è omotransfobia. E voi come intendete muovervi a questo punto? Dopo la manifestazione in piazza, che ho visto che avrebbe avuto molto successo, avete già un modo per affrontare la questione nuovamente? Allora, domani alle 18.30 nella sala del Consiglio Comunale di Pavia ci starà un incontro tra le associazioni del tavolo antidiscriminazioni e le forze di maggioranza. Io non so cosa ne uscirà da questo incontro e non ho particolari speranti. Certo c'è che come associazioni continueremo a proporre i corsi e il progetto senza il supporto dell'amministrazione comunale. Ma questo lo stiamo già facendo, di fatto. Tu come presidente dell'Arcis su cosa punteresti per smuovere questa orribile situazione che si è creata? Fondere la conoscenza, piegare. Noi la piazza l'abbiamo fatta anche per far capire alle persone di cosa si tratta e riportare il dibattito nei termini, nell'ambito della realtà, anziché in quello di deliri omotransfobici dove si parla di gender, dove si dicono cose che sono anche turbanti per chi le ascolta, ma non sono assolutamente ancorate alla realtà, cioè sono balle. La chiave è raccontare la verità. E quindi ancora chiaramente dopo un incontro di domani si saprà qualcosa di più e magari ti telefoneremo per restare aggiornati perché è un tema il primo in Italia, mi confermi, giusto? Allora, è un'azione che non era mai stata fatta, che non esulti da altre amministrazioni, anche perché essendo così contraddittoria, cioè stanno ritirando qualcosa che hanno promosso per due anni, quindi è evidentemente un caso un po' grottesco anche e paradossale, però si sta aprendo probabilmente una fase anche di proteste perché se il nuovo governo non intende andare ad agire contro le minoranze, noi siamo pronti e pronti ad essere in piazza ogni volta che servirà. Certo, e io sarò sempre con voi, lo sapete. Ci vedremo in piazza a desprezzo. Ci vedremo in piazza e in pesto. Davide, io ti ringrazio del tuo intervento, ti abbraccio e ci vediamo prestissimo. Intanto tieniti pronto che ti ritelefoneremo al bisogno, ovvero quando si sapranno delle novità riguardo questa situazione, in modo da poter continuare a interagire e informare i nostri ascoltatori su quanto sta accadendo. Ciao Davide, grazie! E mi trovo qui in corso da Ribaldi, 20-N a Pavia. Ciao Cecilia. Ciao Pietro. Allora, io ti chiederei di presentarti in due righe. Chi sei? Che ruolo occupi l'associazione Pavese Coming Out? Intanto diciamo che sono una donna trans e che ruolo ho all'interno dell'associazione e sono responsabile dello sportello trans che comprende tutti i servizi e quelle attività che l'associazione Coming Out offre alle persone trans, oltre alle persone che si stanno interrogando sulla loro identità di genere, che poi magari sono anche vicepresidente dell'associazione e da marzo del 2022 sono anche operatrice di prima accoglienza. Questo grazie a un bando che abbiamo vinto, finanziato dal governo, che ci ha permesso di espandere le attività che già da 17 anni Coming Out offre sul territorio Pavese per le persone LGBT. Ma che scuola se ti interrompo, ti riferisci alle persone dichiarate, non dichiarate, nel senso ci sono anche dei ragazzini che vivono questa realtà privata, personale e muovono a socializzare, conoscere altre persone per avere qualcuno vicino, poi confidarsi una nuova amicizia, supporto anche. Oppure persone che nonostante abbiano magari già fatto il Coming Out, vogliono conoscere altre persone come loro, come fosse una grande famiglia. Ma entrambi i casi, devo dire la verità, nel senso che ci sono persone che si rivolgono al centro e sono ancora in fase di elaborazione, di esplorazione di se stesse, magari ancora non hanno fatto tutto Coming Out, magari non l'hanno fatto con se stesse e con se stesse, ma hanno fatto la famiglia nel cerchio di amici oppure in ambito lavorativo. Altre persone invece sono già, diciamo, più avanti nel percorso, se mi è concesso usare questo in termini, nel senso che hanno già chiaro la loro identità e quindi hanno già anche fatto diversi coming out nei vari ambiti della loro vita. Io mi chiedevo, mentre tu stavi parlando, che rispetto alla mia generazione le cose sono effettivamente cambiate perché non c'era, nella realtà pavese, ci sto parlando sempre, non è davvero razionale, non c'era una situazione come questa, come il coming out di Paria. abbiamo noi singoli affrontato la nostra accettazione in modo privato, personale, al limite con il miglior amico, con la miglior amica eccetera, senza badare probabilmente o pensare anche a livello psicologico, magari supporto. A proposito, poi lo offrite, un supporto psicologico per le persone in difficoltà che hanno magari problemi nell'atto accettazione, per esempio. Sì, questo è un altro servizio che la società ne offre grazie al bando che abbiamo vinto con il governo, il progetto si chiama Todes, fra l'altro, non l'ho detto prima, e grazie a questi finanziamenti riusciamo ad attirare un servizio anche psicologico per le persone che necessitassero invece di fidarsi ad un professionista per dare così, discutere, diciamo, dei punti ancora non risolti con il progetto intervento sessuale, oppure la propria identità di genere. Sport, tu hai il polso qui della città di Paria, lasciamo perdere il discorso politico. Hai visto una crescita della situazione gay e trans di Paria o ci sono delle evoluzioni, dei piccoli, delle soddisfazioni, dei traguardi raggiunti. Ma allora, parto dalla premessa che io sono Favia da una decina d'anno più o meno, quindi non ho vissuto gli anni precedenti e quindi non, diciamo, ho presente come era la situazione a Favia 20-30 anni fa grazie al racconto di altre persone che mi è stata riferita, non l'ho vissuta direttamente. Io poi sono arrivato a Favia, a Favia ho iniziato il mio percorso di transizione e dopo aver iniziato il mio percorso di transizione sono approdato in associazione proprio. Però diciamo che in questi ultimi anni che io sono in associazione che vivo appunto la dimensione anche comunitaria, noto che c'è più visibilità delle persone, della comunità GBTQ. Cecilia, io ho intervistato un paio di giorni fa Davide, vostro presidente, nostro presidente e rappresenta un po' la situazione padese di quello che è successo e mi ha detto che il 27 ottobre si è tenuto con il sindaco un incontro sul tema del... Sì, il nome del progetto è Far Bene verso Far Bene. Mi sai dire cosa è successo in due ringhi e come è andato a finire? Purtroppo l'incontro non è andato bene, nel senso che è stato disertato da parte dei consiglieri, delle consiglieri di maggioranza. Erano presenti il presidente del consiglio comunale di Coranuti, alcune consigliere della Lega e la capogruppo di Fratelli d'Italia e ne ho reputato Paola Chiesa. Il sindaco di Pavia, all'esito per l'incontro, ha deciso la chiusura dei corsi previsti appunto dal progetto. Il TAS, statunente, erano proprio le lezioni che il coming out propone nelle scuole contro il budismo di Scannabot o mobilesto TAS pubblico. Non c'è stata però una reale motivazione sul perché le lezioni di coming out non vada a bene, non possono essere ritenute ricevibili dai studenti ENEM. Non è una contraddizione? Sì, diciamo che purtroppo sì, abbiamo dovuto constatare che questo è un atto discriminatorio, è un atto discriminatorio a tutti gli effetti. e sul come il sindaco e la maggioranza vorranno procedere ci è stato detto che arriveranno delle comunicazioni. L'intenzione di coming out è quella di segnalare naturalmente questo atto discriminatorio all'una ufficiale azionale a altre discriminazioni, dopo che diciamo anche che le lezioni però nelle scuole da parte di coming out e da parte delle altre associazioni continueranno, nelle scuole anche senza il fatto che ci vede il comune, le richieste che ci sono arrivate da parte di insegnanti sono già tante, quindi anche senza il comune continueremo a fare il lavoro di inclusione che da anni facciamo nelle scuole. Io ti ringrazio, volevo dire una cosa per chiudere, dare i coordinati punti di riferimento per la gente che ci ascolta magari di Papia, la sede, diciamo il corso Caribaldi, 20-N, ci sarai sicuramente tu ad accoglierli, e magari qualche sportatore dall'Australia per dirti, si rivolgerà sui social, pagina Facebook, immagino. Esatto, sì, allora abbiamo, beh, intanto abbiamo il nostro sito che è www.coming-out, con la A, punto it, abbiamo una pagina Facebook, coming out LGBT più community center, e abbiamo anche una pagina Instagram, Archie Gapia. Abbiamo anche una mail di riferimento che è info-coming-out, sempre con la A, punto it, a cui ci potete scrivere per qualsiasi tipo di richiesta. Ah bene, sì, sì, io ti ringrazio, se hai qualcosa, ti viene in mente qualche flash da aggiungere in chiusura che potrebbe essere utile e dimenticato, se no va benissimo così, perché sei stata veramente molto in gamba nell'esplicare tutte queste cose che offre coming out. Venite a trovarci, venite a trovarci, iscriveteci per qualsiasi tipo di situazione che ne c'è, siete accanto magari di essere gestita con noi. Da noi arrivano, fra l'altro, anche non solo persone del territorio pavese, ma anche persone da fuori. Cecilia, grazie mille. Grazie, Pietro, ciao. LeniCast LeniCast I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.